Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar che abbiamo organizzato insieme a Leader Naturally e Mecha per presentarvi la campagna promozionale Mecha. Due parole di introduzione da parte nostra di Unich. Abbiamo accolto con molto piacere l'invito che ci è arrivato da Leader Naturally per organizzare questo webinar perché pensiamo che le attività sviluppate da Leader Naturally e in particolare l'attività sviluppata da Mecha siano di particolare rilevanza e interesse per il settore e tutta la filiera pelli in questo momento. Leader Naturally per chi non lo sapesse è un'associazione che raccoglie diversi stakeholders della filiera pelli a livello internazionale, è un'associazione che si occupa principalmente di promozione e formazione quindi nell'ambito ovviamente del prodotto pelle. Si occupa fondamentalmente di diffondere conoscenza sia all'interno della filiera ma soprattutto all'esterno della filiera per chi non conosce il nostro prodotto e il nostro settore dare quindi qualche indicazione corretta soprattutto in tempi in cui fake news fioccano sia sui mezzi di stampa a livello internet, a livello social e via dicendo pensiamo che sia essenziale in questo momento storico promuovere il più possibile la conoscenza della pelle. Quindi Leader Naturally si occupa di promozione, di formazione e Mecha è la campagna promozionale partita oramai, poi gli amici di Leader Naturally e di Mecha ovviamente vi diranno tutto più nel dettaglio partito ormai penso più di un anno fa come sapete l'attività di promozione, informazione e formazione sul settore è un'attività che svolge in maniera ampia e da lungo tempo anche la nostra associazione ovviamente la nostra associazione è l'associazione delle concierie italiane quindi noi ci rivolgiamo principalmente al nostro mercato di riferimento tenendo ovviamente in prima considerazione quelle che sono poi le caratteristiche e le dinamiche tipiche del settore conciario italiano ma pensiamo che sia assolutamente importante che questo tipo di iniziative abbiano un respiro il più possibile internazionale collaboriamo con Leader Naturally da oramai da parecchio tempo e proprio visto in virtù del fatto che lavoriamo su attività simili abbiamo pensato da subito che fosse necessario coordinarsi in maniera tale che si potesse essere più efficaci sia noi che loro come molti di voi sapranno anche Unic è partita con una campagna promozionale poco più di un anno fa campagna che purtroppo la pandemia covid che ci ha colpito duramente ci ha costretto a sospendere negli ultimi mesi ma contiamo ovviamente di riprenderla appena la situazione lo permetterà ma questo ovviamente non ci impedisce di continuare questa attività di promozione questo webinar ne è un esempio come ne sono un esempio anche tutte le altre iniziative e in particolar modo i webinar che l'associazione ha organizzato da marzo quindi dalla comparsa del covid in avanti e che anche nei prossimi mesi ci vedeva protagonisti con tutta una serie di eventi sempre online di diffusione della conoscenza della sostenibilità del nostro settore a livello internazionale non mi dilungo di più con questa introduzione passo il microfono a Marta Fabiani che è l'antenna della campagna Mecha qui in Italia con noi oggi ci sono anche Egbert Dickers di Ladder Naturally e Fernando Bellese che si occupa poi dello specifico all'interno di Ladder Naturally proprio di coordinare la campagna promozionale Mecha ve lo dirà anche Marta eventuali domande cortesemente scrivetele nella sezione Q&A e alla fine della presentazione di Marta verranno commentate e tutti i dubbi verranno chiariti non mi dilungo di più vi saluto e vi auguro un buon webinar grazie a te Marta grazie Luca e grazie ovviamente anche al tutto team di Unich che ci ha supportato nell'organizzazione di questo webinar detto questo buongiorno a tutti buon pomeriggio anzi benvenuti nuovamente oggi ho il piacere come ha detto Luca di presentarvi i risultati raggiunti insieme a tutto il team di Mecha che ha fatto sia di volontari come me sparsi un po' in giro per tutto il mondo sia ovviamente dal supporto di Ladder Naturally e della nostra agenzia di PR Media e sono qui appunto per presentarvi i risultati raggiunti insieme in questo primo anno e ovviamente parlarvi anche di quelli che speriamo siano poi i nostri progetti futuri colgo prima però l'occasione di presentarvi i miei colleghi panelist di oggi quindi Egbert e Fernando anche se sono abbastanza convinta che siano voti conosciuti alla maggior parte di voi Egbert ovviamente nel settore dal 1992 direttore globale della sostenibilità per Smith & Zoon nonché membro e presidente di Ladder Naturally Fernando Bellese invece è un professionista con oltre dieci anni di esperienza nel marketing e nella sostenibilità attualmente a capo del dipartimento di sostenibilità di Prime Asia nonché responsabile del progetto Mecha e board member di Ladder Naturally sarò io oggi a guidarvi principalmente per motivi linguistici attraverso la presentazione ma Egbert e Fernando rimarranno ovviamente a disposizione durante il webinar e ovviamente per la parte di Q&A laddove ci sia bisogno della loro esperienza e conoscenza del progetto e del settore le domande come ha detto Luca possono essere inserite sia nella sezione di Q&A o laddove non fosse possibile per voi accederla anche nella chat che è presente in questo webinar e alla fine le raccoglieremo tutte e cercheremo di rispondere al maggior numero di domande possibile e adesso direi che dopo aver terminato le presentazioni e un paio di regole di housekeeping è arrivato il momento di parlare del motivo per cui siamo tutti qui oggi ovvero il progetto Mecha direi che siamo tutti d'accordo che per troppi anni il mondo della pelle ha avuto un ruolo di secondo piano nel consumatore ma anche nel mondo del design della pelle e del settore automobilistico ma durante l'ultimo anno abbiamo trovato il modo di farsi sentire in maniera sempre più forte siamo riusciti a raggiungere un'audience totale di oltre 2 milioni di persone a livello globale e siamo riusciti a far visualizzare la parola pelle oltre 540 milioni di volte soltanto durante lo scorso anno come ci siamo riusciti? ovviamente tutto questo grazie a Mecha come possiamo descrivere Mecha per chi non è familiare con questo progetto? Mecha è l'unica piattaforma globale digitale che nell'ultimo anno ha generato conversazioni, interazioni quotidiane con i nostri consumatori portando sotto riflettori la pelle come mai prima d'ora è inoltre una delle poche piattaforme che al momento incentra la conversazione sulla pelle e collabora con personalità influenti nel mondo del design, del fashion, del settore automobilistico insieme ad altri per veramente accentrare l'attenzione su quella che è la pelle la propria versabilità, la sostenibilità eccetera personalità come Oliviero Toscani, Stefan Segmeister, The Shoe Surgeon di cui andremo a parlare un po' più approfonditamente in un secondo momento Bernard, Wickmans e come vedete tanti altri Come abbiamo fatto? Questo tutto grazie agli esforzi del nostro team PR e ovviamente grazie alla creazione di contenuti ad hoc che stiamo utilizzando per creare e rafforzare un network strategico di professionisti e brand appartinenti al mondo della pelle Questa infatti è soltanto un glimpse della comunità che siamo riusciti a creare durante lo scorso anno e che speriamo di poter arricchire durante l'anno a venire Ma a chi ci rivolgiamo con la campagna Meccia? Ci rivolgiamo principalmente a due audience Il primo e diciamo quello principale è quello comunemente chiamato Generation Z o Generazione Z, ovvero tutte quelle persone, tutti i ragazzi che appartengono a una fascia di età tra i 16 e i 24 anni L'audience secondario invece è quello dei millennials, comunemente chiamati millennials che invece appartengono a una fascia di età tra i 25 e i 38 anni Per entrambe le generazioni ci rivolgiamo a persone che si trovano per il momento in Nord America, Europa e Asia Questo perché ovviamente li riteniamo diciamo i mercati strategici per la nostra comunicazione Come mai ci rivolgiamo a questo audience rispetto a altre generazioni? Anche qui i motivi sono principalmente due Il primo è perché la Generation Z e quella dei millennials rappresentano rispettivamente diciamo la fascia dei buyers di domani, dei consumatori di domani mentre nel caso dei millennials diciamo la fascia più imponente di quelli che sono invece i consumatori di oggi Il secondo motivo è perché ovviamente forse anche quello più banale è che queste sono le generazioni più influenzabili e influenzate da tutto quello che è il mondo digitale dei social media che sono ovviamente i mezzi veicolanti attraverso i quali passiamo il messaggio di Meccia Adesso che vi abbiamo dato diciamo un'idea di quella che è la piattaforma dei tipi di topics di cui andiamo a parlare e anche delle persone a cui ci rivolgiamo vorremmo darmi una specie di overview degli obiettivi di alcuni degli obiettivi che abbiamo portato avanti durante il primo anno di Meccia ovvero dalla fine più o meno del 2019 fino ad oggi Uno degli obiettivi era quello per esempio di raggiungere un'audience totale di 2 milioni di persone a livello globale attraverso tutti i nostri vari canali di comunicazione Il risultato è che siamo riusciti a cedere quell'obiettivo ad arrivare a raggiungere quasi 2 milioni e 500 mila persone Un altro degli obiettivi era quello di raggiungere 120 milioni di impressioni sui nostri contenuti relativi alla pelle e siamo riusciti a raggiungere un risultato particolarmente superiore a quello che ci eravamo imposti ottenendo quasi 600 milioni di impressioni in un anno Un altro degli obiettivi era quello di raggiungere 2 milioni di sessioni su Meccia.com e siamo arrivati a raggiungerne quasi 3 mila Mentre invece le sfide maggiori che abbiamo riscontrato sono per quelle che riguardano la crescita del nostro bacino di followers sia su Instagram che su Facebook C'eravamo infatti prefessati un obiettivo forse leggermente raggiungibile ma siamo comunque riusciti a creare un bacino di followers di tra virgolette seguaci che tra Instagram e Facebook conta quasi 600 mila persone E nonostante non siamo riusciti a raggiungere quelli che erano diciamo gli obiettivi iniziali in termini di numero di followers I nostri contenuti relativi alla pelle hanno comunque raggiunto organicamente più di 8 milioni di persone tramite Instagram e Facebook e comunque i nostri contenuti sulle pagine hanno ricevuto quasi più di 3 milioni di interazioni L'ultimo ma non meno importante degli obiettivi è forse quello un po' più relativo alla fascia PR di relazione era quello di portare avanti delle collaborazioni con brand, designer e personalità relativi alla pelle C'eravamo in posse l'obiettivo di portarne avanti almeno 10 e il risultato è che invece siamo riusciti a portarne avanti quasi una ventina Per collaborazioni noi intendiamo tutti i progetti che vanno dalle interviste alla creazione di contenuti a collaborazioni più a 360 gradi come quella che sto per presentarvi Una delle collaborazioni infatti più importanti per il progetto Matcha nel 2020 è stata quella con il designer di fama internazionale The Shoe Surgeon Per chi non lo conoscesse, Dominic Ciambrone, a.k.a. The Shoe Surgeon è appunto un designer diventato particolarmente famoso nell'ambito delle sneakers e dello streetwear famoso anche per essere un designer e manufatturiere di scarpe completamente autodidatta è basato a Los Angeles negli ultimi anni ha vantato collaborazioni con brand del calibro di Nike di Air Jordan, di Adidas e così via perché anche qui abbiamo deciso di collaborare con qualcuno come The Shoe Surgeon e anche qui i motivi principali sono due il primo è la passione di Dominic e del suo team per la pelle come materia prima infatti per chi può esplorare il suo profilo la maggior parte, direi il 99% delle sue creazioni hanno la pelle come materia prima per le sneakers e il secondo motivo è perché le persone a cui parla Dominic, le persone che comprano ovviamente le creazioni di Dominic appartengono a quella Generation Z e quella generazione di Millennials che noi puntiamo a comunicare e quindi ovviamente questo rendeva Dominic e il suo team un mezzo particolarmente ideale per la nostra collaborazione quando parlo di collaborazione 360 intendo una collaborazione dove non solo loro hanno creato un prodotto esclusivo a Matcha che sono le sneakers che vedete nello sfondo di questa slide ma ovviamente abbiamo utilizzato quello che è poi stato il processo creativo e esecutivo di tutto l'intero progetto come perno chiave per la creazione di contenuti ad hoc, interviste, servizi fotografici e video che poi sono stati utilizzati sia per il nostro sito e quello di The Shoe Surgeon che per le nostre corrispettive pagine social questo includeva anche un giveaway dove le sneakers potevano essere vinte da uno dei follower partecipanti come mai questa collaborazione per noi è particolarmente importante? questa collaborazione per noi è importante perché ha portato tutta una serie di risultati che noi speriamo possono essere la base di collaborazioni simili per il 2021 alcuni di questi risultati contano la possibilità di parlare a un'audience di quasi 3 milioni di persone il fatto che siamo riusciti a raggiungere quasi 3 mila nuovi followers durante la campagna di giveaway e quindi andare a ampliare quel bacino di followers di cui parlavamo prima inoltre un incremento esponenziale di visite giornaliere sia alla nostra pagina Instagram che al nostro sito web e inoltre anche il fatto che la nostra collaborazione con The Shoe Surgeon ha ricevuto copertura non soltanto ovviamente dalle piattaforme dirette che sono le nostre e quelle di The Shoe Surgeon ma anche da piattaforme esterne alla collaborazione come Sneaker Freakers come vedete qui e quella con NiceKicks entrambe piattaforme digitali che parlano anch'esse a un pubblico di Millennials and Generation Z e entrambe piattaforme che hanno visualizzazioni di milioni di persone a livello giornaliero e quindi ovviamente una grande exposure sia per la piattaforma Mecha che ovviamente per la pelle ovviamente come tutti i progetti Mecha ha avuto le sue sfide nel 2020 come l'industria in sé per sé come diceva prima Luca il Covid è ovviamente andato a impattare quelli che erano i nostri progetti del 2020 che però se la vogliamo vedere in maniera positiva ci ha portato anche dei risparmi perché ovviamente siamo dovuti andare a portare tagli in tutto quell'aspetto di creazione contenuti che era relativo a viaggi internazionali oppure a eventi di particolare rilievo per il mondo della pelle ci siamo quindi dovuti ritrovare davanti a una scelta su come utilizzare questi risparmi e le generose donazioni dei nostri supporter dell'anno passato potevamo utilizzare i risparmi per andare a puntare tutto su una campagna peer media oppure potevamo, ed è poi la scelta che siamo andati a portare avanti potuto estendere la campagna fino a gennaio quindi lasciar correre la campagna Mecha per un periodo più lungo di tempo a condizione ovviamente di fare affidamento soltanto su attività organiche lasciando invece un investimento più ridotto dal punto di vista media abbiamo quindi visto una riduzione degli investimenti media di quasi il 90% che ovviamente ha portato anche a una riduzione di sessioni sul sito e anche a una riduzione ovviamente del numero di followers detto questo siamo comunque riusciti a vedere un'attività esponenziale dal punto di vista di sessioni sul sito comunque continuiamo a vedere migliaia di interazioni sulle nostre pagine social media di mese in mese quindi nonostante i tagli l'attività di Mecha non si è fermata in questi ultimi mesi quindi la domanda viene spontanea se siamo riusciti a conquistare tutto questo in così poco tempo cosa potrebbe venire dopo? vorremmo quindi farvi un recap di quelli che sono i nostri piani per il 2021 let's make leather unstoppable rendiamo la pelle inarrestabile e andiamo quindi a presentarvi alcune delle idee che la nostra agenzia media ha messo insieme una di queste sono quelli che noi chiamiamo i Mecha Labs ovvero una serie di workshop creativi organizzati da Mecha che abbiano come assoluto protagonista la pelle e che siano indirezzati alle nuove generazioni sia di creativi che di consumatori come? beh ovviamente andremo ad attingere a quello che è la pool di brand e designer a quel network strategico che abbiamo costruito nell'ultimo anno di cui parlavamo in precedenza e quindi andare a stringere e rafforzare relazioni con questi brand con lo scopo di coinvolgerli nell'organizzazione degli workshop vorremmo infatti andare a creare una serie di classi che puntino ad educare e influenzare il nostro target audience su quelle che sono ovviamente le possibilità di utilizzo della pelle la sua sostenibilità e versatilità spesso poco riconosciuta ci immaginiamo questi workshop come edizioni sia digitali tramite i nostri canali Mecha sia edizioni fisiche durante non soltanto eventi rilevanti per l'industria della pelle ma anche eventi relativi al mondo del fashion, design e altre industrie relative questo contribuirà ovviamente a portare la pelle sotto i riflettori in maniera molto più sostanziale ma anche a portare una partecipazione di nuovi audience durante questi eventi abbiamo poi le Mecha Collabs sulla scia della collaborazione con The Shoe Surgeon l'idea sarebbe quella di andare a collaborare con almeno 4 brands 4 designer di fama internazionale nei continenti per noi strategici e andare a creare delle collezioni o dei pezzi esclusivi che vedranno la pelle come materia prima, come materia principale come per la collaborazione con The Shoe Surgeon ovviamente andremo a creare contenuti video, foto ad hoc che ci permetteranno di promuovere il tutto a 360 gradi quindi andare a creare dei prodotti che non rimangono poi a sé stanti ma che tramite la creazione dei contenuti diventano un'esperienza immersiva ed emozionale anche dal punto di vista visivo e che può ovviamente poi essere condiviso sulle nostre piattaforme digitali questi sono alcuni degli esempi delle persone dei brand a cui potremmo richiedere collaborazioni queste sono tutte le relazioni che noi abbiamo già stretto nell'ultimo anno insieme a Mecha e questi ovviamente sono soltanto esempi ma come vedete abbiamo brand di streetwear abbiamo brand di fashion, di design, arredamento o come nel caso delle automobili con in farina manufattori di automobilistica ultimo ma non per importanza abbiamo i Mecha Originals quindi tutta una serie di contenuti editoriali esclusivi a Mecha che avranno come protagonisti brand e designer di risonanza globale appartenenti a varie industrie relative alla pelle quindi per Mecha Originals si intendono tutto un mondo di interviste con creatori, brand e designer photoshoot ad hoc, video quindi tutti i materiali il cui scopo è quello di andare a discutere il valore aggiunto della pelle come materia prima nello sviluppo dei prodotti di design, fashion e altre industrie quindi pelle non solo come una materia prima ma come uno stile di vita in altre parole quindi quali sono i nostri obiettivi per il 2021? i nostri obiettivi, il primo è quello della leather intensification quindi andare a mostrare la pelle ancora di più con più frequenza quindi andare a impegnarsi come brand nel portare avanti collaborazioni e progetti che mettano veramente in risalto la pelle in modo ancora più bold, proattivo e impattante tramite progetti come i Mecha Lab oppure i Collabs un maggior focus sulla sostenibilità che ovviamente sta molto a cuore sia al team di Mecha che ovviamente a tutto il board e team di Leather Naturally quindi andare a creare contenuti originali approfondimenti sul tema della sostenibilità per sensibilizzare ed educare il nostro audience ovviamente siamo una piattaforma che parla a un pubblico giovane quindi comunque l'obiettivo ultimo è quello sì di educare ma comunque di rendere la sostenibilità della pelle quasi cool, interessante e accessibile a chi ascolta ovviamente più collaborazioni quindi più brand collaboration quindi andare a portare avanti almeno 10 collaborazioni e iniziative a livello globale perché comunque vogliamo parlare a un audience globale connettendo le industrie della pelle a brand di fama internazionale ovviamente come grande obiettivo c'è quello di continuare a crescere il nostro bacino di followers attraverso campagne di PR e investimenti media e il nostro obiettivo probabilmente un obiettivo molto impegnativo ma comunque sarebbe quello di andare a crescere il nostro audience allo stato attuale di almeno il 100% di anno in anno e ovviamente creare e continuare ad espandere il nostro network per continuare a creare contenuti che siano esclusivi a Meccia che siano di rilevanza globale puntando poi a generare su questi contenuti almeno 200 milioni di impressioni e poi ovviamente c'è un aspetto per noi molto importante che è quello di andare ad aumentare il senso di sponsored belonging quindi coinvolgere il ruolo più attivo e più attivo coloro che decideranno di supportarci nel 2021 e renderli più partecipi dei progetti che porteremo avanti nel prossimo anno ovviamente questo progetto è un progetto che personalmente a livello di team ci ha dato immenso soddisfazione fino adesso siamo riusciti a collaborare con alcuni dei più grandi brand a livello mondiale ma sappiamo ovviamente che il lavoro non dovrebbe fermarsi qui e non può fermarsi qui quindi per continuare a rinforzare le fondamenta di Meccia per rendere questa piattaforma un punto di riferimento di scala globale ma soprattutto che è quello diciamo il nostro obiettivo ultimo renderlo un progetto autosostenibile è ovviamente una sfida a lungo termine è una sfida che ovviamente richiede duro lavoro e continui investimenti e sforzi da parte di tutti e quindi arriviamo un po' diciamo al dunque di questo webinar che è anche un po' l'elephant in the room il tema di cui solitamente non si vuole parlare ovvero la proposta del budget per l'anno 2 di Meccia il nostro budget proposto è di 1 milione e 500 mila dollari un budget ambizioso ma come mai questo budget? il motivo principale è perché con questa cifra noi riusciremo a portare avanti tutti quelli che sono stati i pacchetti di attività e investimenti del primo anno ma inoltre di riuscire a lanciare tutte quelle iniziative che vi sono state presentate pochi minuti fa tutti gli obiettivi della presentazione sono stati ovviamente basati su questa proposta di budget laddove non riuscissimo a raggiungere la fila ci sarà bisogno di andare a rielaborare anche gli obiettivi presentati però ovviamente speriamo di raggiungerla giusto per darvi un'idea fino a questo momento abbiamo raccolto intorno ai 750 mila dollari con l'obiettivo e la speranza anche di vedere questa cifra crescere nelle prossime settimane purtroppo l'obiettivo è di raggiungere il budget finale entro la fine di questo mese per poter dare continuità al progetto senza vedere interruzioni come per l'anno scorso la raccolta fondi segue le linee guida qua citate quindi basate su il turno vero annuale di ogni singola compagnia ovviamente queste sono linee guida laddove ci fossero dubbi o domande riguardo alle donazioni come già detto prima Egbert e Fernando rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento ovviamente siamo consapevoli che questo è un anno particolarmente duro per tutti è un anno che veramente ci ha portato al limite delle nostre possibilità ma siamo convinti che questo è il momento in cui dobbiamo agire oggi più che mai come una sola identità siamo un'industria, siamo l'industria della pelle abbiamo un obiettivo che è quello di dare alla pelle la rilevanza e la notorietà che si merita come materia prima per la sua versatilità, sostenibilità e così via e una strategia coordinata che ovviamente sarebbe quella di utilizzare la piattaforma Matcha come vettore per il mondo della pelle per le generazioni più giovani siete con noi? perché uniti riusciremo a far tornare la pelle sotto i riflettori e uniti vedremo questa realtà tornare di nuovo a splendere quindi speriamo veramente e contiamo nel vostro supporto io ringrazio tutti per il vostro tempo fino adesso ringrazio nuovamente Unich e Giulia e Luca per il vostro supporto lascerei qui il codice QR code per poter andare al formulario donazioni detto questo so che Giulia e il team si occuperanno poi di mandare il link a tutti coloro che hanno partecipato oggi alle persone che si erano registrate e se Giulia, Fernando e Herbert sono pronti io direi di sfruttare i restanti minuti per poter rispondere ad eventuali domande Sì Marta, io al momento non vedo domande presenti nella sezione T&A ce ne è stata fatta una da Maria Beltran in inglese a cui ha risposto già Fernando Sì ho visto quindi se vuoi anche tu darci un tuo commento magari in italiano su questa domanda così anche l'audience ma magari Giulia possiamo direttamente sentire Fernando ok Fernando, se vuoi rispondere a breve rispondere la domanda e poi magari Marta può tradurlo sì assolutamente, grazie molto Luca e grazie a Marta per la sua grande presentazione su questa domanda di Maria Beltran lei ha domandato se ci raccomandiamo solo vegetale tante leite invece di crumbi e ciò che ho già scritto nel chat è che questo non è il caso noi promuoviamo ogni o qualsiasi preparato responsabile e noi non vogliamo dare più enfasi o promuovere una specifica di processamento se puoi tradurare Marta e poi continueremo sì, no, no, ovviamente quello che diceva Fernando è risposta alla domanda di Maria che chiede laddove tramite Matcha promuoviamo soltanto determinati stili di pelle la risposta di Fernando è che no a nessun punto Matcha si mette nella posizione di promuovere determinati tipi di pelle rispetto ad altri ovviamente l'importante per noi è che i prodotti vengano realizzati in maniera sostenibile ma non ci mettiamo nai nella posizione di preferire determinati tipi di lavorazione rispetto ad altri e non solo questo lo che è molto importante per fare chiaro è che la forma che creiamo content è interviene designers interviene influencers interviene persone che sono rilevanti e lavorano con lezze e magari potete vedere uno di questi persone parlano di una specifia plana o una specifia origine o anche una specifia tipo di lezze ma non è che noi promuoviamo o che preferiamo l'idea è parlare di lezze come fantastico come esciente come esciente come esciente e prodotti che le persone nuove amano se non li amano ancora rappresentate in determinati tipi di contenuti sono solo ed esclusivamente le visioni di quello specifico brand o di quel designer nello specifico quindi Mecha comunque si impone di parlare della pelle e delle sue lavorazioni in modo molto oggettivo se così vogliamo dire laddove ovviamente venissero espresse determinate preferenze e questo sarà sempre e solo da parte delle persone intervistate senza alcun tipo di influenza da parte della nostra piattaforma Ok Fernando, abbiamo un'altra domanda In vostra opinione qual è il miglior modo di promuovere la sostenibilità con lezze e come la lezze può essere sostenibile? Penso che questa è una domanda molto interessante e questa è un'opportunità e questa è un'opportunità di andare più in-depth in una delle cose che Marta ha già parlato abbiamo bisogno di capire che Mecha non è una plataforma per parlare di sostenibilità è per parlare di lezze in generale e vedere come lezze è un prodotto che fa parte del livello della nuova generazione ok ok I can go ahead and translate Sì quello che Fernando sta dicendo è che una delle cose da ricordarsi è che Mecha principalmente non è una piattaforma che parla di sostenibilità ma una piattaforma che si concentra nel promuovere la pelle come stile di vita pelle come materiale in quelle che sono le generazioni più giovani per fare in modo che al momento del consumo al momento dell'acquisto queste generazioni vadano a preferire ovviamente prodotti fatti in pelle rispetto a prodotti fatti con altri tipi di materiali ok Fernando continui e ho detto questo e anche ricevendo feedback dai nostri costi dai nostri partneri e dai compagni nella nostra industria è che anche se non siamo una piattaforma per parlare di sostenibilità che bisogna continuare aumentare il tema che nel nostro contenitore quindi ciò che vogliamo fare qui è essere able adressare la sostenibilità throughout le interviews che facciamo e le videos che creiamo ma non in una tradizionale le le interviene le compagnie per fare domande che aiuteranno a rispondere la sostenibilità come un motivo per cui usano il lead, senza fare qualcosa abbastanza abbastanza e ripetitivo. Qui proviamo a cercare la sostenibilità come parte di un'ottima parte del contenuto Matcha. Detto questo, nonostante Matcha non sia una piattaforma che si incentra sulla sostenibilità, ovviamente la sostenibilità è un argomento che ci sta a cuore come abbiamo detto durante la presentazione e quindi l'idea è di andare veramente ad analizzare, ricercare brand e personalità che loro stessi abbiano un focus maggiore sulla sostenibilità così da poter andare a creare contenuti che anche qui siano informativi ma non in modo noioso, non in modo già visto perché purtroppo le generazioni a cui andiamo a parlare sono generazioni che si adattano soltanto a determinati tipi di contenuti quindi il nostro diciamo il nostro obiettivo è quello di andare a parlare della sostenibilità della pelle e dimostrare alle generazioni che la pelle è un materiale sostenibile attraverso contenuti e interviste video foto e così via che rendono comunque l'argomento interessante per chi lo legge e per chi lo ascolta. Grazie a tutti. 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 product that lasts long it's a very good alternative to plastic it don't contributes to to micro plastic issues for example in our water river seas we need you to understand that when made responsibly leather adds value to a by-product of an important industry which is the the food industry so we need to to give a good destination to that material so there are a lot of of things that we could be talking about and that we're going to be exploring in the second year of matching obviously the question of how can the skin be sustainable? Fernando says that this is an argument on which we could talk about for hours and not for days. Obviously there are many selling points and there are many points that we can pass to who read and consume our content. One of these is obviously the fact that the pelle is a long-term material material, which is a long-term material material that does not carry out short and short and short and short and short and short and short like those that are usually seen for other types of materials, which is a material that non contiene plastic, which then not contribute to what is the liquidation of micro plastic, which we see unfortunately with other types of materials like nylon, etc. and also with those that are the alternative to the pelle that we see that are used by some brands. And so we will see that our objective is to take all of these points and use them to educate them where it is possible for our audience. Thanks Martin. Thank you. se posso aggiungere giusto un breve commento a questo a riguardo di quest'ultima di quest'ultima domanda sì effettivamente gli elementi che possiamo utilizzare per promuovere la sostenibilità quello che facciamo noi per quanto riguarda le concerie italiane sono sono tante alcune sono indubbiamente quelli che caratterizzano il materiale pelle a 360 gradi cioè indipendentemente dal luogo di produzione un materiale naturale andiamo a recuperare riciclare e nobilitare un sottoprodotto che se non fosse un sottoprodotto sarebbe uno scarto uno scarto con un costo economico ambientale di smaltimento che noi evitiamo alla filiera della carne questo è sempre importante sottolinearlo anche se a volte non è semplice riuscire a comunicarlo nella maniera corretta soprattutto a un pubblico a un pubblico ampio che magari non conosce nel dettaglio quelle che sono le dinamiche della nostra filiera ma un punto essenziale su cui per esempio noi di UNIC ma in generale il settore del concerto italiano insiste molto è quello legato al concetto di economia circolare che va che è un principio tra l'altro che anche l'Unione Europea ha fatto proprio nelle proprie linee guida di sostenibilità per i prossimi anni e che noi vediamo assolutamente calzante per quanto riguarda la pelle e soprattutto la pelle la pelle italiana abbiamo un sistema di come dire riciclo per quanto riguarda gli scarti dell'industria conciaria che è assolutamente all'avanguardia e in questo penso a come alcuni scarti della nostra industria vengano valorizzati come materie prime secondarie per altri settori faccio un esempio banale come può essere il carniccio piuttosto che le rifilature e altri scarti tra virgolette organici della nostra produzione che vengono utilizzati da alcuni impianti diciamo più o meno consortili presenti sul nostro territorio in in alcuni distretti per la produzione di biostimolanti per agricoltura fertilizzanti prodotti per l'edilizia per la cosmesi ecco su questi punti sicuramente è importante insistere nel nostro ultimo rapporto di sostenibilità dell'industria conciaria italiana che è uscito qualche settimana fa continuiamo a insistere su questo punto perché pensiamo appunto che sia essenziale e anche nel corso dei vari eventi insomma penso anche alle ultime edizioni di Lina Pelle diciamo pre-covid abbiamo sempre cercato di dare spazio a questo tipo di argomenti perché sappiamo essere gli argomenti concreti, gli argomenti veri, reali su cui il nostro settore deve insistere per far capire non solamente ai nostri clienti ma anche a consumatori, media, pubblica opinione quanto il nostro settore, quanto la nostra filiera è assolutamente sostenibile penso che questo grado di sostenibilità, questo tipo di iniziative, questo tipo di dinamiche non siano così facilmente riscontrabili nelle filiere relative ai materiali alternativi penso ai materiali sintetici piuttosto che a tutti questi fantomatici nuovi materiali che oramai leggiamo sui media un giorno sì e l'altro pure materiali fatti con scarti di questo frutto, di quest'altro piuttosto che sappiamo che poi alla fine altro non sono che poco più che un rigenerato di questi materiali organici assieme a materiali sintetici. Ecco, la pelle ha tanta storia alle proprie spalle, tanta storia significa anche tanta cultura scientifica e tanta tecnologia finalizzata alla sostenibilità che molti di questi materiali non possono vantare. Sì, anche perché siamo molto conosciuti, della pelle si sa quasi tutto, alcuni sanno tanto ma preferiscono quasi non volerlo dire per questioni magari di concorrenza ma io credo che appunto la cultura tecnologica scientifica che abbiamo noi sulla pelle, sul processo conciario e gli altri materiali non ce l'abbiano e forse proprio per questo magari veniamo attaccati perché siamo estremamente trasparenti e nel momento in cui sei trasparente puoi anche dare adito a qualcuno che ti viene un po' a cercare il pelo nell'uovo. Nel confronto degli altri materiali io questa ricerca del pelo nell'uovo molto spesso non la vedo e di questo dobbiamo rammaricarci ma purtroppo viviamo in una società in cui è la comunicazione e soprattutto la comunicazione sensazionalistica e scandalistica che la fa da padrona messaggi semplici e banali molto spesso hanno quasi più efficacia rispetto a appunto decenni e decenni di tecnologia finalizzata alla sostenibilità come quella che abbiamo nel nostro settore. Quindi sicuramente la sfida è importante e sono convinto che l'unica maniera per riuscire a vincerla sia una forte collaborazione di filiera sia a livello nazionale che a livello internazionale quindi assolutamente ben vengono iniziative come quella a cui abbiamo appena assistito. Abbiamo un obiettivo comune, cerchiamo di rimboccarci le maniche affinché tutti si possa fare il proprio anche nel proprio piccolo nel cercare di condividere e promuovere il più possibile informazioni reali sulla bellezza, la qualità e la sostenibilità del nostro prodotto. Scusate questa digressione ma sono temi ovviamente per cui anche la nostra associazione è particolarmente impegnata e sono assolutamente temi sensibili per noi. Assolutamente Luca, nessun problema. Abbiamo un'ultima domanda credo. Fernando, just so you know, we have another question by the slide. Can I just before that just make a comment on what I was saying? And I think Luca, we completely, we are completely aligned in the vision of sustainability that UNICHE ha and when I say we, not only matcha, but leather naturally as a whole and all the education, the communication we try to promote, it's important in that sense. One thing when you talk about the different materials and the way sometimes they attack leather, what, that's my personal opinion, what happens now and that we find is that the amount of different materials that exist right now, it's huge. And it's, it's a very competitive market. And a lot of times those materials, they don't have the, the features that are as competitive and as attractive as leather. And because of that, a lot of times those materials need to either try to, to get the image around leather. So they call themselves leather. Sometimes they have to attack leather to, to try to, to gain some of that, that market share. But in the end, it all comes to, to, you know, to, to a very competitive market. And this is the reason why we need, you need to do the work that you are doing so well. But this is also the need why we need to, 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 to be aligned together and working also on a, on an international way to, to reach more consumers and to reach young consumers. And this is why we, we really need to, to get the engagement from, from all the industries around the world. So thank, thank very much for your comments, Luca, and for, for supporting us in in this project. I'll just translate that quickly, Fernando. Quello che diceva Fernando in risposta a ciò che ha anche detto Luca è che ovviamente ci troviamo in un mercato che è estremamente competitivo e dove le alternative alla pelle in realtà non hanno minimamente lo stesso numero di valori aggiunti che la pelle apporta ovviamente come materia prima. E quindi ci ritroviamo in una situazione dove coloro che promuovono queste alternative alla pelle si trovano a doversi appropriare se vogliamo del termine pelle come per per appropriarsi anche delle dei valori aggiunti della pelle per osmosi o attaccare ovviamente la pelle come materia prima per diciamo portarsi in cima alla lista dei materiali preferibili quando si tratta poi di andare nel processo produttivo e quindi Fernando rinnova diciamo l'invito a sopportare associazioni come Unich, a sopportare ovviamente attività come quelle di Net Relationally e di Matcha perché è soltanto tramite questo tipo di attività che potremo andare veramente a portare la pelle sotto riflettori come si merita. Marta, could I say something? Marta, could I say something? Yeah, I'd like to thank Luca, Junich and the audience very much for attending this webinar and Fernando and you for presenting it. I think there are many reasons in this difficult Covid time to say no to donating money to this campaign. But I can also say that there are many reasons why it is important to donate especially now because together we can make a fist to jointly promote letter for the benefit of the whole industry. Quello che diceva Egbert, ovviamente ho rinnovato ringraziamento a Luca, Giulia e ovviamente tutto il team di Unich per aver organizzato questo webinar e ci teneva inoltre a dire che ovviamente Egbert è perfettamente constapevole che questo è un momento storico dove ci sono varie ragioni per cui uno magari preferisce non donare o comunque vorrebbe dire no a iniziative, donazioni di questo tipo, ma è anche convinto che questo in realtà sia il momento esatto in cui dire sì, in cui investire in questo tipo di attività perché questo è il momento, in inglese dice make it or break it, è un momento in cui veramente ci possiamo unire per portare avanti, per rompere questa barriera e appunto portare la pelle a livello che vogliamo nelle varie industrie in giro per il mondo. Molto E come vi avevo già accennato, ovviamente adesso siamo arrivati più o meno a donazioni da varie parti del mondo e da diverse aziende di almeno 750 mila euro, quindi siamo quasi a metà del nostro goal originario. Egbert spera fortemente che le aziende italiane, i nazionali italiani, siano disposti comunque a supportare, laddove in piccolo e in grande comunque questa iniziativa, perché insieme comunque o con un budget diciamo un po' più sostanziale riusciremo veramente a dare un impatto a questa campagna, riusciremo veramente a portare avanti gli obiettivi che ci siamo imposti per il 2021 e comunque arrivare piano piano a quello che è il nostro obiettivo di rendere matcha un progetto autosostenibile, quindi di iniziare a creare anche quelli che sono poi revenue streams per rendere matcha un progetto dove in futuro non ci saranno bisogno di donazioni. E ringrazio ovviamente tutti nuovamente. Io risponderei soltanto brevemente alla domanda di Chiara Piranna, che credo poi sia l'ultima domanda e poi se Giulia e Luca sono d'accordo possiamo chiudere il webinar. La domanda di Chiara era laddove questo è stato preso in considerazione collaborazioni con influencer di non addetti ai lavori e la risposta è assolutamente sì, nel senso che il nostro team media, la nostra agenzia di PR e media è comunque sempre attenta a nuovi trend, nuove personalità emergenti al mondo degli influencer e dei VIP, quindi tutti i contenuti che vengono condivisi non soltanto sulla piattaforma ma anche sulle nostre pagine social media, sono molto rilevanti per quella che è la cultura pop di questo momento e questo ovviamente vale anche per influencer che non sono propriamente o totalmente relativi al mondo della pelle, ma allo stesso modo anche di brand o designer che magari non parlano, non utilizzano la pelle al 90% ma consumi comunque sono molto appassionati al riguardo. Da me è tutto Giulia, quindi non so se Luca voleva dire qualche ultima parola prima di andare. Volevo ringraziare voi di Leather Naturally e di Mecha per questo webinar ma soprattutto per il vostro impegno appunto in ambito di promozione, comunicazione e informazione sul mondo della pelle per il lavoro che fate, è assolutamente importante, lo sottolineo ancora una volta di supportare questo tipo di iniziative. Chiuderei con un saluto a tutti e un ringraziamento per aver partecipato. Giusto un accenno, magari Giulia se lo vuoi dare tu, sulle altre nostre iniziative delle prossime settimane in ambito di appunto comunicazione e promozione, in particolare sul tema della sostenibilità. Sta per partire un ciclo di webinar dedicato alla sostenibilità del settore, giusto? Sì, allora a partire dalla prossima settimana e fino alla metà di marzo abbiamo in programma una serie di webinar dedicati appunto al tema della sostenibilità della pelle, principalmente rivolto ai visitatori di Linea Pelle London e Linea Pelle North, già che a causa della pandemia le fire fisiche sono state sospese per il momento, per cui abbiamo deciso di proporre un'alternativa attraverso una serie di webinar dedicati a tematiche relative a trattabilità, certificazione, sostenibilità sociale e ambientale della pelle. Vi invitiamo a visitare i siti di Linea Pelle London e la pelle New York per vedere un po' il calendario e poi i speaker che parteciperanno e animeranno questi webinar. Il primo appuntamento è il 20 di gennaio. Sì, c'è la settimana prossima dove appunto presenteremo il nostro nuovo rapporto di sostenibilità dell'Unione Alconciaria Italiana in inglese appunto ai, come ha detto Giulia, ai visitatori esteri di queste fiere. Bene, se non c'è altro, Marta, Fernando, Egbert, ancora grazie per la vostra presentazione e grazie a voi tutti per aver partecipato. Qualsiasi tipo di ulteriore informazione o chiarimento a questo bisogno, contattate noi oppure contattate loro direttamente. E niente, vi auguro. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie Luca, grazie Giulia. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci.